Brava Quasi due minuti eh, bravissime Mamma mia ragazzi che cosa Sono queste donne E nel frattempo le piattaforme Raggiungono tra poco i 60 gradi Eccola purtroppo Veronica E vince Nicoletta Con due minuti e un secondo Per adesso ovviamente vince Nicoletta Complimenti anche a Veronica Siete state fantastiche tutte e due Ragazzi per favore Non è corretto Non si può ragazze Alle banche dovete andare Allora adesso dobbiamo sommare Alvin Il tempo dei nostri Caspar e Stefano Giusto? Quindi ancora non è detto no?